Regioni, sono tutti indagati, vanno qui, vanno lì, vanno lì, conclusione non fanno niente, non gli fanno niente, quelli lì, quelli lì, quelli lì, e i poveracci continuano a pagare e quelli non gli fanno niente. Sì, c'è un solo modo per farne. 765, quando entrano in uno, fare il tiro al bersaglio, il tiro a segno, è l'unico. Soltanto la morte può salvarsi, la loro morte. Invece all'orovessio, loro usano il proverbio latino, morte tua, vita mea, così noi moriamo, paghiamo e loro continuano sempre a fare i loro sforci, schifosi, comodi, questi maledetti pigli di puttana scadetti. Ma verrà il giorno del giudizio, anche per loro ci sarà la morte, il quarto cavaliere dell'Apocalisse, con ora falci, dirà, ah ah, che te qui maledetti pigli di puttana, politiche regionali, comunali, tutte le altre, adesso tocca a voi. Per voi ci sarà un eterno inferno.